ecco un discreto fungotto, sono una parete, la parete che conosco solo io per il momento ecco lo sto cavando, ce l'avevo lasciato due o tre giorni fa decisamente piccolo ora è da allevare perché può essere a rischio, eccolo qui, guardate che bellezza è un bel fungotto, sano anche perché qui c'è un bazzicare di lumache che se li mangiano da far paura eccolo, è un bel fungotto, meritava la pena di essere svelto come si dice da noi svelto vuol dire da svellere, ok, rimette al suo posto, ce ne sono sotto anche più piccoli stop